Lei, I don't see. Ogni lavoratore faccia parte o meno del sistema formale del lavoro stipendiato ha diritto a una remunerazione degna, alla sicurezza sociale e a una copertura pensionistica. Ben trovati a tutti, amici e amiche di Non di Solo Pane, ho voluto aprire questa puntata lasciando le parole a Papa Francesco. Dedicheremo questa puntata soprattutto al discorso che proprio Papa Francesco ha tenuto ai movimenti popolari mondiali lo scorso 28 ottobre. E la frase iniziale è proprio sua, forse i giornali l'hanno un po' riportata velocemente, ma vi invito, lo trovate magari anche sui giornali o sul sito, su quello di Paschristi, lo trovate integrale ad andare a leggere questo discorso che lui ha fatto in spagnolo, sottolineando le tre ti. Tierra, tecio, trabacco. Terra, tetto e lavoro. Io credo che sia uno dei discorsi più dirompenti, non tanto per la battuta, anche quello, ma è tutto il contesto. Per quello che la battuta era, mi dicono che sono comunista, ma l'amore per i poveri è al centro del Vangelo, l'aveva già citato anche altre volte. Allora, così, mi sembra bello non lasciar cadere in mezzo a questo clima che viviamo, che è un po' dell'usa e getta, la notizia passa veloce, poi ce ne sono altre. Mi sembra bello dare voce proprio a questo incontro di Papa Francesco con i movimenti mondiali, popolari, tierra, tecio, trabacco e poi tante altre cose. Leggo. Questo nostro incontro risponde a un anelito molto concreto, qualcosa che qualsiasi padre, qualsiasi madre vuole per i propri figli. Un anelito che dovrebbe essere alla portata di tutti, ma che oggi vediamo con tristezza, sempre più lontano dalla maggioranza della gente. Terra, casa e lavoro. È strano, ma se parlo di questo per alcuni il Papa è comunista. Non si comprende che l'amore per i poveri è al centro del Vangelo. Terra, casa e lavoro, quello per cui lottate, sono diritti sacri. Esigere ciò non è affatto strano, è la dottrina sociale della Chiesa. Mi soffermo un po' su ognuno di essi, perché li avete scelti come parole d'ordine per questo incontro. Terra. All'inizio della creazione Dio creò l'uomo custode della sua opera, affidandogli in incarico di coltivarla e di proteggerla. Vedo che qui ci sono decine di contadini e di contadine e voglio felicitarmi con loro perché custodiscono la terra, la coltivano e lo fanno in comunità. Mi preoccupa lo sradicamento di tanti fratelli contadini che soffrono per questo motivo e non per guerre o disastri naturali. L'accapparramento di terre, la deforestazione, l'appropriazione dell'acqua, i pesticidi inadeguati, sono alcuni dei mali che strappano l'uomo dalla sua terra natale. E poi ovviamente salto perché il discorso è stato molto lungo. La seconda T era teccio, casa. L'ho già detto e lo ripeto, una casa per ogni famiglia. Non bisogna mai dimenticare che Gesù nacque in una stalla perché negli alloggi non c'era posto, che la sua famiglia dovette abbandonare la propria casa e fuggire in Egitto, perseguitata da Erode. Oggi ci sono tante famiglie senza casa, o perché non l'hanno mai avuta, o perché l'hanno persa per diversi motivi. Famiglia e casa vanno di pari passo. Ma un tetto, perché sia una casa, deve anche avere una dimensione comunitaria. Il quartiere, ed è proprio nel quartiere che si inizia a costruire questa grande famiglia dell'umanità, a partire da ciò che è più immediato, dalla convivenza col vicinato. Oggi viviamo in immense città che si mostrano moderne, orgogliose e addirittura vanitose. Città che offrono innumerevoli piaceri e benessere per una minoranza felice, ma si nega una casa migliaia di nostri fratelli e vicini, persino bambini, e li si chiama elegantemente persone senza fissa dimora. È curioso come nel mondo delle ingiustizie abbondino gli eufemismi. Non si dicono le parole con precisione e la realtà si cerca nell'eufemismo. Una persona, una persona segregata, una persona accantonata, una persona che sta soffrendo per la miseria, per la fame, è una persona senza fissa dimora. Espressione elegante, no? Voi cercate sempre, potrei sbagliarmi in qualche caso, ma in generale dietro a un eufemismo c'è un delitto. E poi ovviamente ancora continua la terza T è il trabacco, lavoro. Non esiste peggiore povertà materiale, mi preme sottolinearlo, di quella che non permette di guadagnarsi il pane e priva della dignità del lavoro. La disoccupazione giovanile, l'informalità e la mancanza di diritti lavorativi non sono inevitabili. Sono il risultato di una previa opzione sociale, di un sistema economico che emette i benefici al di sopra dell'uomo. Se il beneficio economico, al di sopra dell'umanità o al di sopra dell'uomo, sono effetti di una cultura dello scarto che considera l'essere umano di per sé come un bene di consumo che si può usare e poi buttare. E' sempre il Papa che continua il discorso, oggi al fenomeno dello sfruttamento e dell'oppressione si somma una nuova dimensione, una sfumatura grafica e dura dell'ingiustizia sociale. Quelli che non si possono integrare, gli esclusi, sono scarti, eccedenze. Questa è la cultura dello scarto e su questo punto vorrei aggiungere qualcosa che non ho qui scritto ma viene in mente ora. Questo succede quando al centro di un sistema economico c'è il Dio denaro e non l'uomo, la persona umana. Sì, al centro di ogni sistema sociale o economico deve esserci la persona, immagine di Dio, creata perché fosse il denominatore dell'universo. Quando la persona viene spostata e arriva il Dio denaro si produce questo sconvolgimento di valori. E per illustrarlo ricordo qui un insegnamento dell'anno 1200 circa. Un rabbino ebreo spiegava ai suoi fedeli la storia della torre di Babele e allora raccontava come per costruire quella torre di Babele bisognava fare un grande sforzo, bisognava fabbricare i mattoni, per fabbricare i mattoni bisognava fare il fango e portare la paglia e mescolare il fango con la paglia, poi tagliarlo in quadrati, poi farlo seccare, poi cuocerlo e quando i mattoni erano cotti e freddi portarli su per costruire la torre. Se cadeva un mattone, era costato tanto con tutto quel lavoro, era quasi una tragedia nazionale. Colui che l'aveva lasciato cadere veniva punito o cacciato, o non so che cosa gli facevano, ma se cadeva un operaio non succedeva nulla. Questo accade quando la persona è al servizio del Dio denaro e lo raccontava un rabbino ebreo del 1200 spiegando queste cose orribili. Per quanto riguarda lo scarto dobbiamo anche essere un po' attenti a quanto accade nella nostra società. Sto ripetendo cose che ho detto e che stanno nell'Evangelii Gaudium. Oggi si scartano i bambini perché il tasso di natalità in molti paesi della Terra è diminuito, o si scartano i bambini per mancanza di cibo o perché vengono uccisi prima di nascere. Scarto di bambini si scartano gli anziani perché non servono, non producono, né bambini né anziani producono. Allora con sistemi più o meno sofisticatili si abbandona lentamente e ora, poiché in questa crisi occorre recuperare un certo equilibrio, stiamo assistendo a un terzo scarto molto doloroso, lo scarto dei giovani. Milioni di giovani, non dico la cifra perché non la conosco esattamente, milioni di giovani sono scartati dal lavoro disoccupati. Nei paesi europei, e queste sì sono statistiche chiare, qui in Italia i giovani disoccupati sono un po' più del 40%. Sapete cosa significa 40% di giovani? Un'intera generazione. Annullare un'intera generazione per mantenere l'equilibrio. Salto ovviamente per andare un po' verso la fine, continua sempre Papa Francesco. Poco fa ho detto, e lo ripeto, che stiamo vivendo la terza guerra mondiale, ma a pezzi. Ci sono sistemi economici che per sopravvivere devono fare la guerra. Allora si fabbricano e si vendono armi e così i bilanci delle economie che sacrificano l'uomo ai piedi dell'idolo del denaro ovviamente vengono sanati. Sono parole impressionanti. Ci sono sistemi economici che per sopravvivere devono fare la guerra. La riforma agraria è ademà di una necessità politica una obbligazione morale. E per dare concretezza a questo discorso di Papa Francesco abbiamo tradotto qui nella nostra diocesi la sera del 4 novembre una serata di preghiera proprio sulla guerra. Ce lo ricordava Papa Francesco nel suo discorso. Martedì 4 novembre, anniversario della fine della prima guerra mondiale, inutile strage, una giornata di lutto. A Novara, convento San Nazaro, sentiremo anche il vescovo di Bagdad, Monsignor Warduni. Ci aiuta a non dimenticare le vittime e proprio mentre stavamo registrando ci sono giunte anche notizie non belle di scritte contro i profughi accolti nell'osso, la bruciate tutti. Il clima si fa forse troppo pesante, il rischio che la paura venga sfruttata per seminare odio. Ma forse bisognerà ritornarci con calma un'altra volta. Credo che dobbiamo essere attenti e soprattutto non cadere in una logica di violenza, non raccogliendo la violenza che qualcuno forse vuole volontariamente seminare. Grazie a tutti, anche a nome di Don Angelo, ci vediamo la settimana prossima. Buona festa di tutti i santi!